Il nostro incontro è una pagina scritta ma ancora non letta che parla di noi nasce dal tuo Dio un antico destinato tuo e Dio Ora narra dei primi passi una risulta e casualità di essere vicini tra suono e versi le coincidenze e le affinità strani momenti tra sensazioni di sofferenza e serenità cantano danzano le canzoni seguire i brividi le intuizioni vita nata per unirci nasce da sé la nostra storia insieme il zippogo fantastica il libro aperto che racconta già a far volare far volare e se dividi la parola lei che fa volare nel sette cieli dove l'aria culla gli angeli quelli che stanno già lassù e che ci hanno visto insieme volare insieme e andare insieme la 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 scrivere e ballare il vince del fantasticare aiutare chi sta male un po' di tutto a far del bene come una favola come una favola come in una favola predicando al centro dell'amore per unire un'anima sola e lei che fa volare e viene come una favola Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti